Zenzero e limone Zenzero e limone, una combinazione perfetta per dimagrire Lo zenzero è una radice conosciuta a livello mondiale grazie a tutti i benefici che possiede per la nostra salute, soprattutto per il potere antinfiammatorio e le sue proprietà digestive che favoriscono la corretta attività del sistema digerente. Questa radice viene utilizzata anche per dimagrire, dato che le sue proprietà favoriscono la perdita di peso, oltre a migliorare le funzioni digerenti, infatti, presenta anche un effetto termogenico che aiuta ad attivare il metabolismo. . Lo zenzero rappresenta, quindi, un potente brucia grassi e brucia calorie. Dallaltra parte, il limone è un altro potente alimento medicinale che favorisce la salute in diversi modi, viene considerato, inoltre, un dimagrante naturale. . . Il suo elevato contenuto di vitamina C lo rende un antiossidante molto efficace che favorisce leliminazione dei rifiuti dellorganismo, combatte la ritenzione idrica, aiuta a disintossicare il corpo e contribuisce ad eliminare il gonfiore addominale. . 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 Purificare il sangue, possedendo ingredienti depuratori per l'organismo, che facilitano l'eliminazione di tossine e rifiuti di cui il corpo non ha bisogno, questi due alleati sono ottimi per purificare in modo naturale il sangue, fanno bene per la circolazione e combattono il colesterolo cattivo LDL. Rafforzano il sistema immunitario, sia il limone sia lo zenzero possiedono una grande quantità di componenti che rafforzano il sistema immunitario e grazie a questo ci aiutano a tenere lontani i raffreddori, i problemi respiratori, l'afonia, le infezioni ed altri problemi di salute. Aiutano a prendersi cura della salute della pelle, la miscela a base di zenzero e limone è ricca di vitamina C ed antiossidanti, che aiutano a mantenere la pelle sana, giovane ed idratata. Stimolano la corretta digestione, questa combinazione è l'ideale per contrastare i problemi digestivi come l'indigestione, il transito lento e, tra le altre cose, la fastidiosa ritenzione idrica. Tuttavia, è bene ricordare che chi soffre di gastrite deve moderarne l'assunzione. Ricordate! Se desiderate perdere peso sfruttando i benefici dello zenzero e del limone, dovete comunque seguire una dieta sana, priva di cibo spazzatura, bevande gassate, eccessi di farinaci e sodio. L'ideale, inoltre, sarebbe realizzare attività fisica e bere almeno due litri d'acqua al giorno. Se seguirete questo stile di vita, noterete presto i primi risultati e direte addio ai chili di troppo. Grazie a tutti!